Buongiorno a tutti Aspetta Julie Buongiorno a tutti Allora Questo video è il video Si chiama tipo The best friend tag Però le domande non sono proprio quelle Perché erano troppo facili E quindi Ho rivisitato le domande e le ho scritte molto più difficili No non più difficili Però hanno scritto un po' di più Insomma sono molte domande Che farò a lei Per testare il livello di amicizia Ok Si Lei si chiama Alessandra Ve l'ho già presentata nel vecchio canale Però ora la ripresento Faremo appunto il video delle domande Cioè si insomma the best friend tag Ah volevo anche chiedervi se per caso mi piace La mia nuova pettinatura Ho deciso di farmi No E quindi Cominciamo subito perché le domande sono molte Allora Dove e quando ci siamo conosciute Allora A scuola Che bello Prima alimentare Che No basta Prima alimentare Non posso dire niente No Dopo Dopo Quanto tempo ho conosciuto la mia famiglia No Aspetta Lo so Subito Cioè Ma non lo so Tipo Quando venivi a casa mia Che c'era sempre mia madre Che mio padre Che ti chiamava Dana Ciao Dana Ciao Dana Quanto tempo ci conosciamo Prima liceo Altra prima liceo Dieci anni Che carine Dieci anni Ok Cosa fai con me spesso Preview Che cazzo facciamo noi due Che cazzo facciamo mai niente Vengo da te a cazzeggio Cioè Tanto c'hai wifi Quindi vengo solo per quello Carina La password è Sofia Maria no Il nostro primo viaggio Allora No Sono indecisa Perché O breguzzo Tutto da me Oppure no Perché sono anche venuta da Burger Da Burger Eh è vero Vabbè O al male da me O da lei in montagna Ma non ci ricordiamo Quale è la mia cucina preferita Non lo so Sono sci Sono sci Brava Wow Che numero di scarpe porto Ahia 39 38 Dai cazzo Una cosa in cui sono brava No dai Pasticciare il diario Sei un boss Ma no Più Vabbè Però quando andavo a scuola insieme Eri un boss Cosa mangerei ogni giorno Se potessi Posso rispondere Alla modo scontato Nutella No Mi fa schifo Ah Allora Tipo il fatto che ci sono Delle noccioline Sulla tua scrivania Influenza La mia risposta Si chiamano pistacchi Pistacchi E comunque Sì Sono questi Io li mangio sempre E se potessi mangiare solo quelli Perché non li metti a fuoco Oppure le cicche Quindi ho qualche strana ossessione Le cicche Le cicche Mangiare sempre le cicche Le cicche Che squadra tifo Allora no Mi ricordo Mi disse un questo Allora Prima ti favi Inter Me lo ricordo Sì perché avevi Ah no Prima abriva Milano Poi Inter di nuovo Perché avevi adesivi dell'Inter Super no di storia Poi Hai riniziato A tifare Milano E tutti ti sfottevano Perché dicevi che ti favi Milano E avevi adesivi dell'Inter C'è sempre la mia storia Questo lo so bene Di che colore sono i miei occhi Porco Bip Azzurri Chi è la mia migliore amica? Io C'è qualcosa che faccio Che tu vorresti Che io non facessi? Non penso Ah sì Quando mi sbotti Sarà puttana Sei veramente una stronza E c'è qualcosa che tu fai Che io vorresti Che io vorrei Che tu non facessi? Ma come io sono perfetta Pratico qualche sport Aspetta Sicuramente c'è qualcosa Che non vorrei Che io vorresti Che io vorrei Che è un esame Fatti un esame di coscienza Hai pratico qualche sport? Vai in piscina Il giovedì Alle 6 Ti trovi con la tipa L'angelica Bella Alla prima volta della 60 Quando è il mio compleanno? 11 maggio E a che ora sono nata? 9.40 Qual è il mio colore preferito? No lo so Lo so No perché è cambiata una cifra di volte E mi ricordo che Eh è giallo Si sembra il giallo? È il verde Sì Guarda quando è il verde? Era un po' verde militare È il mio? Arancione Sì Rosso E che giovanni rosso? Se potessi vivere in un posto del mondo in particolare Quale sceglierei? Che cazzo ne so io Non lo so Dove vorresti vivere? O figlia dall'Italia Tipo Vabbè voglio un po' di più Londra Cosa potrei fare per ore? Dove le cicche? Faccio cagare L'unica cosa No L'ultima cosa che ho comprato Le calze Insieme Che l'ho comprata anch'io Le dimenticate qua Quelle alte fino a qui C'era bisogno di dirlo Il mio animale preferito? 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 A parte i due gonghi Sì Fa più ricci Lo so Non ce l'ho Cioè ce l'avevo Perché Il cane Sì C'è qualcosa in faccia? Ah il mio numero preferito Qual è? Che cazzo ne so È il numero perfetto È il sette Il numero perfetto È il sette il numero perfetto No E qual è? Conto fino a? 8 Conto fino a? 3 3 Ma non è il numero perfetto? Sì 3 è il numero perfetto Ma fa schifo il 3 La mia materia preferita? No aspetta un secondo Ma il 3 fa cagare Ma il 3 è bellissimo È la sua media di latina dell'anno scorso Matematica Preview Dai la materia è incorposto più alto Dai si fa faccio in matematica La materia è incorposto più alto Beh non lo so Io non vengo più a scuola Diritto C'ho 9 Ma che cazzo ne so Se lo ero mettuto tipo 18 mila volte Ma lo sai che ho 9 in diritto? Ah bella Ma io non so neanche Se sto guardando la tv Che non la guardo mai Però se la sto guardando Cosa sto guardando? X Factor Oppure? Masterchef Oppure c'è Una Aspetta Non so cos'è Ma non so come si chiama Spiega Quello lì che puoi vedere i film Quando cazzo ti pare? O The Wonder O The Wonder Una mia passione I video su YouTube I video su YouTube Bene allora il video è finito Seriamente? Sì Ma ho fatto cagare Dai un po' di domande di recupero Non ci sono in questa cosa Qual è? Di che colore sono i tuoi capelli? Al tre? Sì Uno No al tre no Perché non mi piace il tre Al sette Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E E E Questo video Nooo È smascherato la mia copertura Oh mio Dio Questo video è terminato Noi siamo molto felici di salutarvi Io vi esorto a mettere mi piace alla pagina Facebook A seguirmi su Facebook, Twitter e Instagram Mi lascio tutti i link nell'info box E anche i suoi Nooo Un messaggio Ok Allora Cazzo E dopo questo Bella È stato un piacere Sì